Buongiorno a tutti, siamo all'Hilton Sorrento Palace per la Convention 2019 di H Group. Con noi abbiamo Gabriele Piergentili, che è il direttore commerciale di Medio Insurance, broker assicurativo di H Group. Ti chiediamo Gabriele di illustrarci come sta andando l'integrazione tra Soluzione Protezione, che è l'ex broker di soluzione credito, nella nuova società. Grazie Paolo, sta andando molto bene. Abbiamo sviluppato il processo in tre tappe. Inizialmente fino al 31-12-2018 abbiamo tenuto entrambe le linee. Questo perché, post-fusione, abbiamo cercato di creare meno disagi possibili alla rete. Dal gennaio 2019, invece, abbiamo dato la possibilità a entrambe le reti di accedere a entrambe le linee dei prodotti, in modo da avere dei feedback per lo sviluppo della piattaforma futura. La piattaforma futura che abbiamo lanciato oggi in convention è stata lanciata innanzitutto con il lancio dell'app MIA, che non è altro che l'acronimo di Medio Insurance Application. Una app che permetterà al nostro collaboratore di gestire tutta la trattativa con il cliente, evitando la firma ormai cartacea e quindi gestendo tutto tramite la firma digitale con codice OTP. Arriveremo nella seconda parte dell'anno, appena le compagnie riusciranno a gestire la pratica a livello informatico, la firma anche della polizza tramite il codice OTP, in modo da poter eliminare totalmente la carta e semplificare il processo di vendita generale. Bene, Gabriele, grazie per queste interessanti informazioni. Grazie e un saluto a tutti i telespettatori.